I gastronomi del futuro si formano a Pollenzo, una frazione del comune di Bra, in provincia di Cuneo. E' qui che nel 2004, su iniziativa di Slow Food e in collaborazione con le regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, è nata l'Università di Scienze Gastronomiche, un ateneo non statale legalmente riconosciuto, frequentato finora da oltre 3.300 studenti, il rettore Bartolomeo Biolatti. A Pollenzo si laurano i gastronomi, nuove figure professionali destinate a guidare il sistema alimentare, le aziende, la società e la politica verso l'orizzonte della transizione ecologica. Il gastronomo appartiene alla categoria dei green jobs, professioni del futuro che saranno sempre più numerose grazie al Green Deal. Il corso di laurea in Scienze Gastronomiche, forma professionistiche accanto alla tecnologia alimentare, alle scienze della vita e della natura, alle scienze agrarie e della nutrizione, acquisiscono un'ampia formazione di carattere umanistico, filosofico, storico, geografico, socio-antropologico. Ne risulta un manager colto, dotato di un'ampia visione della complessità del sistema alimentare e delle sue necessità di cambiamento. L'Ateneo ha una impronta fortemente internazionale, come spiega il manager Paolo Ferrarini. L'università è un'università italiana, ma assolutamente internazionale. Innanzitutto tutte le lezioni di tutti i corsi sono in lingua inglese. Questo ha fatto sì che nel corso dei vent'anni di vita dell'università abbiamo avuto più di 3.500 studenti da ben 98 paesi. Stati Uniti, Germania, Svizzera, Brasile, Giappone, Corea, India. In secondo luogo abbiamo oltre 100 visiting professor all'anno che vengono a insegnare un po' in tutti i corsi e anche questi vengono un po' da tutto il mondo. E infine, grossa particolarità dell'università, che privilegia l'esperenzialità, sono i viaggi didattici. Anche questi ad oggi hanno toccato ben 57 paesi nel mondo. Pollenzo è un fondamentale snodo per dare risposta alle attuali necessità del sistema alimentare, soprattutto per la generazione Z, che si candida ad essere quella della svolta climatica, un luogo dove venire ed apprendere per capire le trasformazioni in atto nel settore e per diventare protagonisti del prossimo domani. Grazie.